Ultimo tutorial sul Taiji Chuan. Dopo questa piccola parte, diciamo, introduttiva a questo secondo set di lavoro, vedremo uno dei movimenti più famosi del Taiji Chuan, che è separare la criniera del cavallo. Mi scuseranno i maestri più, diciamo, più bravi di me, perché non utilizzo termini cinesi, ma il topic di questo tipo di video è rivolgermi a chi sta iniziando a praticare il Taiji Chuan. Quindi cercherò di utilizzare una terminologia in italiano e una terminologia che consente l'accesso a tutti a questo tipo di pratica. Allora, detto quanto abbiamo fatto nei precedenti video tutorial, che vi invito a rivedere, siamo arrivati a poter affrontare un discorso, quello appunto delle tecniche fondamentali. Separare la criniera del cavallo selvaggio è un movimento che prende l'idea da un'azione che è quella di fare la palla. Nel Taiji Chuan i movimenti sono circolari, per cui noi possiamo prendere l'agio del movimento, intanto attraverso una considerazione, cioè il giusto posizionamento dei segmenti del braccio, che deve essere relativo ad un posizionamento circolare, circolare ma allineato. Spesso nei movimenti circolari gli errori che si vedono più frequentemente sono quelli dovuti al fatto che non abbiamo ancora una buona procezione. Allora i principianti tendono ad articolare il movimento secondo degli angoli vivi, per cui la mano è posizionata con un angolo, il gomito con un angolo. L'idea è quella di aprire questi angoli in modo da dare al gesto, al movimento, un'apertura che ricorda la posizione circolare. Per questo il movimento di tenere la palla, la posizione di tenere la palla, è una posizione che già educa il principiante a capire quando angola in maniera sbagliata i segmenti del braccio. E questo è un pezzettino del lavoro perché riguarda le braccia. Lo stesso discorso va fatto a livello del tronco, per cui il torace non è mai troppo aperto, ma anzi è leggermente rientrato. Bene, la colonna vertebrale non è mai per estesa, ma è tendenzialmente allineata. Bene, la testa non è mai spinta in avanti, ma è anch'essa allineata secondo la verticale. E le gambe non sono mai né troppo tese, bene, né, come dire, né fuori asse. Bene, gli angoli della gamba devono mantenere sempre un asse, così come il mio braccio deve essere allineato secondo un posizionamento arrotondato, le gambe allo stesso modo devono essere allineate secondo un posizionamento tale per cui il ginocchio sia sempre nell'ambito della superficie di appoggio della pianta del piede. Quindi, se io mi dovessi piegare, dovrei tenere in considerazione questo fattore, unitamente anche al resto, anche la colonna vertebrale dritta, ad esempio. E dritta, attenzione, può voler dire che io posso inclinare il busto, però senza perdere la struttura di allineamento della colonna vertebrale. Quindi, nell'ambito del ginocchio, è importante che io possa arrivare a percepire che il mio posizionamento deve essere all'interno della superficie di appoggio del piede, in modo che il peso venga scaricato in maniera verticale. Bene, dette queste piccole cose introduttive, possiamo iniziare a lavorare sul famoso movimento di separare la linea del cavallo, che è uno dei primi movimenti che si inizia a studiare. Quindi, il movimento verrà prima affrontato dal punto di vista della preparazione, che prevede l'azione di tenere una palla. Bene, una palla fra le mani in realtà sarebbe anche un discorso che riguarda le braccia, non solo le mani. Però ci sono movimenti dove le mani sono così vicine al corpo, bene, da poter essere inquadrate comunque nell'azione di tenere una palla. Quello che è importante, ovviamente, è il posizionamento delle mani. Spesso si trovano disallineate. In alcuni stili è volutamente così, perché il principio che c'è alla base del discorso riguarda l'allineamento, in realtà, di una serie di segmenti, che adesso non starò qui a esplicitare, comunque che riguardano il principio delle sei armonie. Nel lavoro base, quindi, il discorso di tenere la palla è un qualcosa che ha a che fare con una gestualità della mano, con un'idea che tra i palmi si crea una condizione di allineamento che io devo riportare nell'ambito della struttura di tutto il corpo. Per cui, questo sarà una condizione dove la mia palla è tenuta qui, al centro del corpo, e in alcuni stili di Taiji è comunque corretto. Nel lavoro che andremo a fare noi adesso, sposteremo quest'asse, bene, in modo da farlo corrispondere all'asse spalla, anca, ginocchio, piede. Bene. Quindi, in una nostra ideale preparazione, potremo partire con le gambe flesse, con le mani posizionate come per tenere una palla, ruoto le braccia, sposto il mio asse, bene, e sposto la palla. In questo caso, la gamba è libera, bene, l'asse è completamente, diciamo, allineato e lo sforzo è relativo. Vado dall'altra parte, giro le mani, mi sposto dall'altro lato. Anche qui dovrò ascoltare dove sta lavorando il mio asse. Torno centrale, mi sposto, ascolto l'asse. A questo punto, io posso appoggiare il piede, traslare il peso centralmente, sviluppare il movimento di separare la triniera del cavallo, mentre sviluppo la mia posizione. Torno al centro, giro le mani, faccio la palla, sento il mio asse, appoggio il tallone, scarico il peso piano piano, passando con il baricentro dal centro, sviluppo il mio movimento nell'altra direzione, andando sulla posizione delle gambe che si chiama passo dell'arco, o kumpu in cinese, avevo promesso che non avrei parlato in cinese, sviluppo il mio movimento come se ruotassi questa palla, bene, e cambiassi di posizione alle mani. Torno al centro, giro le mani, appoggio, mi abbasso, scambio le braccia. Attenzione a come il peso viene traslato gradualmente. Nella posizione centrale, il mio baricentro cade al centro delle gambe. Nella posizione dell'arco, detta anche posizione 70-30, perché il peso è 70% da un lato e 30% dietro, il baricentro sarà vicino al terzo anteriore. Torno al centro, scambio le mani, mi appoggio, traslo gradualmente il peso, bene, torno al centro, tallone, punta, giro le mani, appoggio, notate che il ginocchio resta nella parte d'appoggio della pianta del piede, e questo è uno dei momenti in cui effettivamente i principianti che non hanno un'adeguata apertura delle anche per il quesito fondamentale, sbagliano e mi vanno dentro col ginocchio. Allora invece l'apertura delle anche mi consente di mantenere questo allineamento con uno sforzo relativo delle gambe. Torno al centro, prima muovo il tallone, poi muovo la punta, poi muovo le braccia. Tallone, punta, faccio la palla, appoggio, mi abbasso, sviluppo il movimento. Attenzione che durante l'azione di sviluppo del movimento l'azione di spostamento del peso fa traslare quindi tutta la struttura, mi libera l'anca, dietro si fa tutta un'azione molto interessante e verrà approfondito in un altro video, in un altro contesto, però diciamo questa rotazione si trasmette al corpo per cui tutto il movimento delle gambe, delle braccia, della testa, degli occhi termina insieme. Riprendendo il movimento da una posizione centrale sviluppo il movimento, quando finisce l'azione di rotazione della gamba finisce l'azione di rotazione delle braccia. Torno al centro, faccio la palla, mi appoggio, sviluppo il movimento. torno avanti e chiudo la mia azione. Ecco, questo diciamo in maniera breve, è l'esecuzione corretta del movimento di separare la linea del cavallo. durante questi piccoli video darò tutta una serie di informazioni per cercare appunto di alleggerire lo studio della materia. quello che costituisce il lavoro strutturale di base vale poi per tutte le altre tecniche per cui il lavoro speso in questi momenti sulle tecniche fondamentali è un lavoro che consente poi di essere tesaurizzato negli altri movimenti per l'esecuzione degli altri movimenti e riguarda sia il principiante che lo studente più diciamo esperto perché il lavoro di studio di approfondimento tradizionalmente nelle discipline cinesi ma io direi dovunque è un lavoro che parte dalle basi il lavoro sulle basi è il lavoro che fa crescere i praticanti noi pensiamo che una persona che pratica la 108 sia più brava di una persona che pratica la 16 questo secondo me è un concetto proprio sbagliato io ho avuto maestri cinesi super bravi che lavoravano con la 24 forme che per loro è una sciocchezza che però nella capacità di poter comprendere di esprimere il Tai Chi Chuan questa capacità si può esprimere anche su forme semplici anche su forme semplificate quindi non vi fate sviare la mente dalla nostra tendenza occidentale a considerare le cose in maniera piramidale il Tai Chi Chuan anche concettualmente è circolare per cui il lavoro circolare bene è il lavoro che consente di crescere nel Tai Chi l'emblema dello Yin e dello Yang noi abbiamo anche l'idea di come viene sviluppata l'abilità di come viene strutturato lo studio del lavoro del Tai Chi Chuan per cui l'approfondimento delle basi è sempre il punto di partenza per qualsiasi tipo di miglioramento grazie per avermi seguito e a presto grazie